L'idea di Starway to Even era quella di avere un pezzo di musica, una canzone che si sarebbe dovuta sviluppare su più strati e dovesse andare a coinvolgere diversi stati dati. Tutta l'intensità e la finezza dovevano servire per dare spinta al brano, sotto ogni punto di vista, sia quello emozionale che musicale. Per questo la canzone continua ad aprire e da esplorare un certo tipo di schemi. Starway to Even, una celebre canzone del gruppo britannico Led Zeppelin, è una delle più famose nella storia della musica rock. Fu pubblicata nel 1971 nel quarto album del gruppo, Led Zeppelin Four, una delle canzoni più richieste dalle stazioni radio FM negli Stati Uniti, nonostante non ne sia mai stato fatto un singolo. Fu invece pubblicata negli Stati Uniti anche come disco promozionale e come EP, acustico in Australia. Negli anni 90 ne è stata fatta una pubblicazione promozionale per il ventesimo anniversario. La Cera Uniti è una pubblicazione promozione per il luogo d'eir else. La Cera Uniti è un'arco della cliente, mi piuttosto attrava l'eir. La Cera Uniti è oti. La Cera Uniti è Katia Uniti è un'ottima rata per il luogo d'ambito. La Cera Uniti è un'ottima rata con il luogo di Stati Uniti è un'ottima rata. La Cera Uniti è un'ottima rata. Il nostro corso gratuito 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti